In questa prima lezione vi illustreremo cos'è la PNL e quali sono gli obiettivi che il corso si propone di offrire agli studenti. La PNL si caratterizza per essere una disciplina che studia l'esperienza soggettiva per imparare a comunicare efficacemente sia con noi stessi che con gli altri. Lo stesso termine programmazione neurolinguistica implica la concomitanza di tre differenti aspetti di questa disciplina che concorrono contemporaneamente, sincronicamente, alla strutturazione di una vera e propria tecnica da poter comunicare con se stessi e con gli altri in maniera più funzionale e per poter raggiungere gli obiettivi che ognuno di noi si propone di raggiungere all'interno del proprio percorso di vita. La programmazione, infatti, viene intesa come un processo di organizzazione delle componenti di un sistema, come ad esempio le rappresentazioni sensoriali che vedremo. Sono le rappresentazioni principali con le quali noi organizziamo la nostra esperienza e i nostri comportamenti. Questo processo di organizzazione delle componenti di un sistema viene utilizzato per raggiungere dei risultati, degli obiettivi. Il termine neuro si riferisce al fatto che ogni comportamento deriva da processi neurologici e pertanto ad essi è strettamente legato. Il termine linguistico, invece, si riferisce ovviamente alla importanza fondamentale che rappresenta il linguaggio e insieme ad esso anche i sistemi di comunicazione nell'utilizzo della PNL. Infatti, i processi neurali sono rappresentati, ordinati e disposti in sequenza in modelli e strategie. Attraverso la PNL andremo a verificare e comprendere quali sono questi modelli e ad acquisire le strategie per poterli mettere in atto e per poterne usufruire concretamente nella vita di tutti i giorni. Le origini della PNL traggono spunto dagli studi di Grinder e Bendler, un linguista e un famoso matematico che iniziarono insieme ad osservare centinaia di sedute di Erickson, che era un famoso medico ipnotista. Osservando le sedute che Erickson svolgeva con i propri pazienti e filmando queste sedute, Grinder e Bendler ebbero la possibilità di analizzare fotogramma per fotogramma per valutare e successivamente scoprire quali sono gli schemi ricorrenti relativi alla comunicazione verbale e non verbale che intercorrono tra medico e paziente durante una seduta di terapia. Ovviamente Bendler riconobbe ben presto la struttura di ciò che il terapeuta andava facendo per ottenere sostanziali progressi. Una cosa di cui lo stesso terapeuta Erickson fino a quel punto non era pienamente consapevole. Da queste prime esperienze dunque Richard e John svilupparono il processo di base su cui si fonda tutta la programmazione neurolinguistica, che è il modellamento. Con l'andare del tempo, Bendler e Grinder integrarono i loro studi con le teorie di altri autori esperti nella comunicazione, nella linguistica, quali Dixon, Watzlawicz e Chomsky, approdando infine alla formulazione dei principi della PNL, secondo i quali non era solo una mera teoria volta a spiegare il perché che avrebbe portato alla verifica e all'acquisizione, poi anche delle competenze necessarie per vivere meglio e per comunicare meglio e per raggiungere meglio gli obiettivi, ma un modello che ne descrivesse il come andando oltre ai paradigmi precostituiti scientificamente e cercando di arrivare ai nodi delle questioni problematiche che gli uomini si ponevano di giorno in giorno cercando di comprendere il modo in cui affrontavano le situazioni, le relazioni e i problemi e non soltanto capirne il perché in quanto si resero conto che capire il perché di molte cose, di molte azioni, di molti comportamenti degli esseri umani non avrebbe contribuito a migliorarne le condizioni. Il corso di PNL che andrete a seguire si propone infatti tra i principali obiettivi quello di offrire a chiunque voglia diventare un esperto di se stesso o semplicemente migliorare le proprie condizioni di vita tutti gli strumenti e le tecniche necessari per fare un buon uso della PNL. La programmazione neurolinguistica viene spesso malinterpretata, sopravvalutata o sottovalutata rispetto alle proprie reali potenzialità. È opportuno che ognuno di noi che si trovi a studiare questa nuova disciplina sia consapevole di quali sono gli strumenti che realmente ha a disposizione e quali sono le tecniche necessarie per utilizzarla al meglio rispetto alle proprie personali condizioni di vita che possono collocarsi all'interno delle varie sfere principali come quella lavorativa, quella sociale, quella personale. Pertanto aiutare l'essere umano a migliorare le condizioni sia in ambito affettivo che in ambito prestazionale se pensiamo al lavoro. Il fondamento della PNL si origina come sintesi e sistematizzazione delle scoperte di Bandler e Grinder che abbiamo accennato in precedenza in modo da rendere disponibili anche a livello di base quelle che sono le capacità comunicative in passato riservate soltanto agli specialisti più preparati come gli analisti, gli ipnotisti, i terapeuti e che oggi potrebbero invece risultare essere alla portata di molte più persone pur non essendo esperte di alcune discipline come la psicologia, la medicina, la filosofia, la sociologia. La PNL infatti si rappresenta come una vera e propria metodologia basata sul principio che ogni comportamento ha una propria struttura. Queste strutture sono le medesime individuate da Grinder e Bandler mentre osservavano le interazioni medico-paziente. Non sono altro che una sorta di sistematizzazione dei comportamenti interpersonali che caratterizzano le relazioni interpersonali e un loro utilizzo in forma più o meno strutturata, se vogliamo anche standard, sulla base ovviamente e rapportata alle capacità e alle risorse di ognuno di noi. Queste strutture possono essere modellate per l'appunto e quindi modificate e adattate alle esigenze del momento, imparate, insegnate come stiamo facendo ora e anche cambiate al fine di migliorare il loro utilizzo a seconda dell'ambito di applicazione. Le competenze che ogni corsista potrà acquisire al termine del corso saranno le seguenti. Quelle di collocare la PNL all'interno delle cornici teoriche psicologiche e psicosociali attuali, riconoscendone ovviamente le peculiarità. Quelle di riflettere in maniera critica sulle ipotesi di questa disciplina, verificandone l'efficacia in relazione alle proprie esperienze di vita. Quelle di acquisire consapevolezza sulle innovazioni e sui limiti della programmazione neurolinguistica e infine metterne in pratica i presupposti di base. I presupposti di base della PNL sono delle mini-teorie, se vogliamo naif, ovvero non di verità assoluta, ma di grande utilità che vi illustreremo nel corso di ogni singola lezione. Ciascuna di queste teorie verrà sottoposta al vaglio della vostra esperienza critica di vita per poterla verificare personalmente, sia verificandone i benefici che verificandone i limiti. Ogni presupposto della PNL che verrà preso in considerazione verrà attentamente vagliato poi da degli esercizi pratici che sarete chiamati a svolgere al termine di ogni lezione e durante la vostra vita quotidiana in base alle vostre esigenze. Per questo corso sono stati selezionati, come vedrete, 21 presupposti. In realtà ce ne sono molti altri. La lezione è finita. Vi lascio con un interrogativo, quello di chiedervi di formulare delle aspettative rispetto al corso cercando di comprendere il motivo alla base del quale avete scelto di fare un corso sulla PNL, di che origine è, se è un motivo personale o di carattere professionale, che importanza date alle motivazioni che vi ha spinto a frequentare questo corso, ovvero quanto pesa realmente all'interno del vostro percorso di vita acquisire queste competenze. Grazie. 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 Grazie.